Poco più di un mese al via dell'attesa Pistoia Betone, gara leggenda del podismo italiano. Una delle più importanti e suggestive ultramaratone d'Europa, giunta alla sua 44esima edizione, si svolgerà domenica 30 giugno con la consueta partenza alle 7.30 da Piazza Duomo e arrivo alle celebri piramidi della stazione scistica Montana. La manifestazione, che è anche un eccellente veicolo promozionale per la città capoluogo e il suo territorio, richiama centinaia di podisti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Si tratta, per i pochi che ancora non la conoscono, di una giornata evento piena di sport a livello agonistico ed iniziative collaterali, il tutto organizzato dalla società Silvano Fedi. Sono ben cinque i percorsi pronti a soddisfare le esigenze e i gusti di tutti. Ovviamente c'è la 50 chilometri, la regina delle Gran Fondo Europee su strada in salita, che ha ormai assegnato quasi tutti i pettorali disponibili, 900 in totale, ma sono già 800 le adesioni. Già iscritti, atleti in rappresentanza di 19 regioni italiane e una quindicina di nazioni estere. Poi si passa la 30 chilometri da Pistoia a San Marcello, una prova importante soprattutto per chi sta preparando una maratona autunnale. Quindi c'è la camminata free walking da San Marcello ad Abetone di 20 chilometri, una gita dal passo veloce che lo scorso anno ha fatto registrare il record di 250 partenti. E poi come dimenticare il quarto traguardo dalle regine ad Abetone di 3 chilometri, una camminata dedicata ai diversamente abili, agli accompagnatori e a tutti coloro che intendono aggregarsi. L'iscrizione è gratuita, l'amicizia e sorrisi anche. Infine il trekking con la traversata notturna dal rifugio Porta Franca alla Abetone di 10 ore circa, riservata agli amanti delle suggestive escursioni fuori strada, in questo caso al chiaro di luna perché la partenza è nel cuore della notte.